3 sono usciti i tipi perché ne hai messi tutte due in giro c'è l'ultimo c'è l'ultimo sbaglia a tirare il culo e mancino lo fa pure da maestro prova provo so finis almeno esce di più posso tirare io guarda a me io non lo tiro o ti metti così e fai così oppure c'è anche un altro metodo come sarebbe? metti la mano qua per rinforzare il polso e fai così si prova prova 500 per rinforzare il polso